Una mostra per oltrepassare i violenti confini, come recita anche il titolo, è quella realizzata presso le storiche sale della Pinacoteca Comunale di Città di Castello, che fino a domenica 9 luglio propone un tema importante come quello del trauma da una frattura o da una barriera innalzata. Il confine etimologicamente rappresenta il limite di un territorio, di un terreno, ma anche di una ragione geografica o di uno stato. Il limite può essere fisico-mentale, osservato o oltrepassato, ma può anche avere funzione di isolamento o di demarcazione. La positività o la negatività dell'accezione spesso è stabilita dall'atteggiamento del singolo e della propria decisione di oltrepassarlo, come dimostra il suggestivo video di Filippo Berta intitolato Sulla retta via, che vuole rappresentare una fila indiana di uomini e donne che con un gioco di coreografie e ombre si impegnano a superare i confini creati dalle onde del mare. Ma questa è solo una delle 21 opere realizzate da altrettanti artisti contemporanei e stranieri che attraverso la loro arte hanno voluto indagare e rappresentare il tema del confine. E così, tra installazioni, dipinti, disegni, sculture, fotografie e video realizzati per lo più negli ultimi decenni e mappe storiche provenienti dalle collezioni museali di Città di Castello, il rapporto tra passato e presente diventa il fil rouge dell'intera mostra, allestita in cinque ambienti, ognuno dei quali presenta una variazione sul tema. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 18 e 30.